ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sull'eleking tv e con il cello mi manca della raccolta calciatori panini 2019 2020 si continua con questa raccolta cerchiamo di portarla a termine ragazzi come al solito lasciate un bel mi piace a questo video condividetelo se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non l'avete già fatto ragazzi e seguitemi anche sui social tra cui instagram tiktok e twitch basta cercare l'eleking tv mi trovate ovunque su questi social iniziamo subito ragazzi la prima figurina troviamo quella di ilicic del grande ilicic che mi ricordavo di averla eccolo qui il grande ilicic dell'atalanta che ha fatto quella partita strepitosa contro il valencia poi abbiamo davan zapata doppione anche lui e come sapete abbiamo trovato anche l'altro sapata nello spacchettamento comunque vi lascio il link sia sulla it informazioni che anche a termine del video sui video consigliati dello spacchettamento allora ragazzi qui abbiamo del bologna bani col 37 ce l'abbiamo del brescia non abbiamo trovato niente andiamo al cagliarito abbiamo trovato robin olsen che ce l'abbiamo ex roma e un altro ex roma invece ci manca che la 98 che luca pellegrini eccolo qui luca pellegrini nata a roma cresciuto nella roma la roma l'ha ceduto quest'estate alla juventus secondo me la juventus ha fatto anche un affare perché è un giocatore veramente di prospettiva un giocatore molto interessante da seguire la juventus l'ha rigirato a cagliarito e già era stato l'anno scorso in prestito dalla roma però non dalla juventus la roma l'ha messo inserito diciamo nell'affare con spinazzola alla juventus poi abbiamo la 152 del genoa che è zapata quindi saltiamo la fiorentina andiamo al genoa 152 ce l'abbiamo zapata poi abbiamo la 161 cassata e questo ci manca cassata ci manca poi è la severona abbiamo la 185 gunter e anche lui ci manca un'altra mancante bene 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 ragazzuoli bene 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 quanto riusciamo a mettere qualche figurina sul nostro album anche perché stiamo andando abbastanza avanti diventa sempre più difficile 203 l'altra parte della formazione dell'ellas poi andiamo alla juventus quindi saltiamo l'inter e andiamo direttamente alla juventus dove abbiamo cesni 241 che io pensavo di averlo nello spacchettamento ho anche detto ragazzi guardate che cesni ce l'ho e invece no meglio così ragazzi meglio così poi lazio non abbiamo trovato niente andiamo direttamente al mille all'iesi buonanotte a lecce dobbiamo 308 che maier che ce l'abbiamo poi andiamo al milan questa volta si andiamo al milano 329 che pepe reina e questa mi manca eccolo qui giocatore spagnolo che ha giocato per molti anni nel nostro campionato con la maglia del napoli molti tifosi se lo ricordano anche in diciamo in modo affettuoso diciamo ha lasciato un bel ricordo penso a napoli poi l'autobus del milan questo ce l'abbiamo andiamo avanti napoli non abbiamo trovato nessuna figurina al parma abbiamo la 399 adorante eccolo l'adorante ce l'abbiamo classe 2000 giocatore giovanissimo della squadra di parma poi andiamo alla roma però abbiamo trovato la parte dell'autobus che ci manca la 438 eccolo bello per adesso devo dire guarda guardate non perché sono tifoso della roma ma gli autobus più belli per adesso sono quello della roma e quello della fiorentina poi andiamo alla samp dove abbiamo la 445 che è segulin che è doppione la 449 ci manca eccolo poi abbiamo la 455 yankton e questo ce l'ho andiamo poi alla spal quindi saltiamo il sassuolo andiamo direttamente alla spalla dobbiamo la figurina 516 o ce l'ho moncini moncini ragazzi ce l'ho ero convinto che questa figurina mi mancasse anche perché della spalla ragazzi me ne mancano veramente tante veramente tante quindi ci avrei messo quasi la mano sul fuoco che mi mancava invece niente purtroppo no poi andiamo al torino 538 anche questa è doppione eccolo andiamo all'utinese dove abbiamo la 564 che ci manca eccolo eccolo la 573 ce l'ho de paul e stefano okaga ex giocatore della roma ce l'ho roma parma insomma ha giocato parecchie squadrette in serie a firme del campionato ragazzi che come sapete è stato rinviato quello che doveva uscire il 28 quindi in teoria oggi perché questo io lo farò uscire il 28 anche se l'ho registrato prima quindi c15 c16 c17 sono state rinviate non usciranno più il 28 ma usciranno più avanti ragazzi motivi motivi sempre legati al coronavirus alla situazione che c'è quindi ragazzi questa uscita è stata rinviata vedremo quanto quanto uscirà qui ci sono tutti aggiornamenti del calcio mercato che già l'abbiamo stravisti 595 invece è il calcio femminile è il tavagnacco il tavagnacco che mi manca poi andiamo alla serie b prima figurine abbiamo quella del benevento con antei del pinto e cragl macello antei ex giocatori di roma e sassuolo poi andiamo avanti andiamo al chievo verona abbiamo la figurina numero 616 ce l'abbiamo codicman esposito e segre poi andiamo allo spezia frosinone pescara livorno perugia pisa pordenone sarnitana spezia ecco qui la 722 ci manca con ricci bartolomei e maggiore da mettere ricci bartolomei e maggiore ok poi andiamo avanti andiamo ai mister quindi saltiamo il venezia virtus centella andiamo direttamente ai mister e abbiamo la 755 che ce l'abbiamo tezzerbi e semplici poi abbiamo la 762 con breta e oddo allenatore rispettivamente di livorno e perugia e poi andiamo alla serie c saltando sogno azzurro top performance gran gala del calcio andiamo alla serie c la 727 ci manca praticamente sarebbe l'ultima figurina dell'album quindi abbiamo la ternata la ternana poi abbiamo la vibonese poi abbiamo la virtus francavilla e poi abbiamo la viter bese eccola qui viter bese allora ragazzi per questo cielo mi manca è tutto adesso vi faccio vedere velocemente i miei doppioni che ho trovato ilicic zapata bani olsen zapata di nuovo maier l'autobus del milan adorante seculin ianc to moncini de paul okaka e quest'altre della serie b e gli allenatori abbiamo messo praticamente una due tre quattro cinque 6 7 8 9 10 11 12 non sono tantissime perché su 30 figurine abbiamo messo meno della metà però ragazzi come stava andando ultimamente che mettevamo 5 6 figurine siamo in miglioramento sicuramente io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti